Oggi 19 settembre come consuetudine ogni anno viene presentato il bozzetto del prossimo carro dell'Immacolata Concezione. Nella solennità di San Gennaro nostro patrono sarà affisso presso uno dei pilastri della Basilica all'ingresso il bozzetto del carro votivo dell'Immacolata 2024. Innanzitutto il titolo Madre fiducia nostra madre della speranza si rifà a un canto il cui testo è stato scritto e musicato da Monsignor Frisina un canto molto bello che il nostro popolo già canta e che ci accompagnerà proprio nella solennità dell'Immacolata di quest'anno Madre fiducia nostra madre della speranza. Il bozzetto ci è stato dato da Costantino Linguella è un giovane della nostra Nova Juve che è cresciuto in parroccio e da tanti anni mi aveva ciesto di fare questo bozzetto con un po' la consulenza artistica di Riccardo Lamberti che ne sarà come sempre l'esecutore e si farà aiutare anche dai fratelli Cropano per alcune sculture. L'autore del carro davanti ha posto il segno della speranza e l'ancora l'ancora che quando viene calata in mare dà solidità alla barca è bello che ci sia proprio per noi popolo di marittimi a cui penso e profitto anche per mandare un affettuoso saluto ma unito alla preghiera sempre ecco è un segno marinaro da solidità alla barca e quindi è segno anche della fede che ci tiene saldi in Dio ma soprattutto l'ancora in linguaggio ecclesiastico, in linguaggio biblico è segno anche di speranza perché ci tiene ancorati alle realtà più grandi la Madonna poi è posta quest'anno proprio al centro del carro e alla base del trono ci sono due fontane anche questo con l'acqua che sgorga l'acqua simbolo della grazia l'acqua simbolo anche di speranza perché come dice il profeta sgorgeranno sorgenti nel deserto mi preme ricordarvi la preparazione spirituale la preparazione alla festa dell'8 dicembre sabato 21 inizieranno i 12 sabati in onore dell'Immacolata dopo la messa delle 9.30 del mattino e dopo la messa vespertina all'altare dell'Immacolata sarà accesa una lampada e insieme invocheremo la Madonna per tante intenzioni ogni settimana metteremo una particolare intenzione cominceremo per la pace per le famiglie i giovani gli infermi i ragazzi gli anziani ecco tanti motivi per pregare e per camminare insieme nel fervore della nostra fede verso l'8 dicembre conoscenza per creare i dissolute per creare Grazie a tutti.